Sotto la provincia qui a Pescara per manifestare per la sopravvivenza dell'Aurum? Sì, diciamo oltre a questo per avere una chiarezza sul nostro futuro. C'è stato fatto un annuncio prima di Natale di questo trasferimento dell'azienda, però fino ad oggi non abbiamo nero su bianco, non sappiamo neanche di che morte faremo. Un'azienda che comunque va bene sul mercato? Sì, siamo in attivo, noi produciamo le basi per la casa madre, per la Maretto e il Saronno, in più abbiamo una linea di prodotti di aromi naturali per l'industria alimentare. Cosa chiedete ai vertici aziendali? La chiarezza, nero su bianco per definire il nostro futuro, tutto qui, sembra di un diritto lecito, no? Quanti lavoratori sono a rischio? Siamo 25, siamo 25 famiglie. Grazie. Grazie.